Io non mi impendo letteralmente dalle labbra di Lucio, a me ha molto colpito il fatto che da tre mesi sentiamo dire tutti i giorni dagli americani oggi invadono, entro stasera invadono, allora tal dei tali invadono, questa tecnica al lupo al lupo fa sì che poi un atto grave come quello commesso ieri da Putin susciti nelle opinioni pubbliche una reazione tipo e beh tutto qua, cioè si è preso il bordo esterno del Donbass che peraltro controllava già prima e che come è noto è popolato da russofoni se non da russi, quindi anche un atto grave continuando ad annunciare un'invasione totale dell'Ucraina da terza guerra mondiale fa sì che Putin prima dell'invasione possa permettersi il lusso di fare altre operazioni come quelle che ha fatto ieri, io francamente non sono riuscito a capire che senso abbia questo gridare al lupo al lupo tutti i giorni provocando tra l'altro sconquassi nelle borse, nelle economie come al solito nella tradizione americana, vanno a fare casino lontanissimo da casa loro, creano guai in casa nostra e poi si meravigliano se l'alleanza atlantica non è così compatta, ma ci mancherebbe altro, anche sostenere come faceva prima l'onorevole Fassino che le violazioni della sovranità altrui vanno punite è assolutamente sacrosanto, ma che cosa hanno fatto gli Stati Uniti e i loro alleati in Afghanistan e in Iraq? hanno fatto esattamente la stessa cosa ma su ben più ampia scala e con un bilancio di vittime e una durata ventennale, salvo poi doversene scappare, quindi è anche difficile trovare qualcuno che possa ergersi a buono contro uno che è sicuramente cattivo come Putin. Onorevole Fassino? Io non credo.